Lascia like e iscriviti al canale non te ne pentirai Ciao ragazzi sono Ninja Hyper e finalmente è arrivato questo aggiornamento che aspettavamo da due settimane Finalmente Sono cambiato un sacco di cose in cui alcune non tutte perché non ho tantissimo tempo E alcune ve le dirò in questo video Io volevo jumpare innanzitutto E mi hanno ucciso Cioè non ucciso Hyper mi ha fatto il gadget e rip non sono più saltato Ok comunque ho fatto uno o due kill C'è Stedgar che è totalmente tristissima Con panico perché ha fatto le emoji vabbè Salto qui che non si può andare effettivamente qui ma col trampolino con i gadget con le super ci si può andare Vedete ragazzi Stedgar è preoccupatissima Io cerco di teamare con lei Boh Ah qua tra l'altro c'è un teletrasporto verde si si che l'avevo già visto prima Comunque ragazzi ho fatto il video una volta Ecco cosa c'è in tutto l'aggiornamento E lì c'è tutto E ora vi dirò per chi non ha visto il video Per caso Vabbè qua ci sto morendo Alcune cose Innanzitutto hanno cambiato Cioè le animazioni di Bipin Le hanno fatte animate Dominio assedio i map maker che purtroppo ragazzi io prima ho guardato se c'erano ma non c'erano come è possibile Boh a riguardo Hanno fatto una manutenzione quindi ora vedrò No ragazzi guardate domina assedio non sono sul map maker come è possibile Domani uscirà ufficialmente power league Io non che abbiate capito poi così tanto di power league Però vabbè Ho visto sì i video su youtube che dicono come si gioca power league Però non sono riuscito a capire tantissimo perché alcune cose non le hanno proprio dette Perché io ho visto un video Poi in un altro video ho detto delle cose che nell'altro video ancora non ci sono Quindi sicuramente c'è qualcosa che ancora devo capire Che bello abbiamo pure vinto ho schiacciato quel colt Se vedete qui dove c'erano le amichevoli non c'è scritto più amichevole ma c'è scritto battaglia amichevole Beh bello Come potete ben vedere adesso qui vedete si è stretto di più la descrizione in tutto nel club La chat e dove puoi vedere anche i social line l'hanno fatto diventare gigante Stessa cosa per i giocatori online Wow Oltre ad aver cambiato le animazioni animate di pin Hanno cambiato anche l'animazione di quando trovi un brawler Vi ricordate Cioè quando tu trovi un brawler poi c'è l'animazione di quando trovi che gira e poi ti esce la figura Invece quella figura l'hanno cambiata Boh Nel prossimo video Cioè no nel video precedente che ho fatto si vedrà State tranquilli Beh mi ho ucciso Le altre novità le trovate in quel video Però c'è stata una novità che è la novità più importante e più bella Ovvero ragazzi la sorpresa come c'è scritto ben nel titolo Sarà provare il nuovo brawler stu Ragazzi non nel campo di prova E così Ora ci farò qualche due partite Dai Questo brawler Non l'ho Ve lo giuro ragazzi Ve lo giuro Non l'ho mai usato La prova si può anche vedere Nel Che ho zero coppe Ovviamente ora tutti stu si metteranno Sono subito morto Facciamo immediatamente un'altra Ok ragazzi Stranamente non ci sono più così tanti stu Però ragazzi guardate Lo faccio solamente per voi Guardate C'è un problema Sembra che io posso attraversare l'acqua Invece guardo la ulti E non mi fa fare un cavolo Vabbè Ho sprecato la ulti Vabbè me la posso caricare nell'arco di due secondi Ragazzi Già subito così Subito così devo vincere Ho abbastanza rischiato Però La partita è durata A parte un secondo Ma ho anche vinto Che non ho fatto niente Beh Like, iscrizione e campanella Al prossimo video Ciao